Arriva il nuovo Energy Manager in Comune a Genova, di che figura si tratta? Sì, è una figura che dovrà sovraintendere tutte le tematiche riguardanti il consumo energetico e l'utilizzo dell'energia in generale. Sappiamo che il Comune è un grande consumatore di energia e l'esigenza di razionalizzare la spesa è ovviamente un'esigenza molto sentita. Per questo motivo abbiamo cercato sul mercato una figura altamente professionalizzata su questa materia. Abbiamo fatto un bando, hanno partecipato nove persone e su queste nove persone abbiamo selezionato un giovane ragazzo dell'età di 33 anni che ha lavorato negli ultimi sette anni a Londra, anche se è italiano d'origine, siciliano d'origine e che ha risposto con entusiasmo alla nostra scommessa di razionalizzare e rivedere i consumi energetici e l'apparato energetico del nostro ente. Sono sicuramente alti i margini di risparmio e la sua posizione all'interno dell'ente farà sì che avrà una funzione molto trasversale. Sarà in staff all'area dei servizi per cui sovrintenderà tutte le tematiche energetiche all'interno dei vari filoni verticali dell'amministrazione, dall'ambiente ai lavori pubblici all'urbanistica, alla mobilità e al trasporto, per cui avrà un'amplissima visuale e questo ovviamente è fondamentale perché bisogna avere un governo d'insieme di una tematica che ormai è diventata così importante, anche dal punto di vista dell'opportunità che la comunità europea ci offre quanto a bandi, quanto a possibilità di ricevere finanziamenti, per cui è una figura assolutamente fondamentale e una persona della sua esperienza, che appunto negli ultimi sette anni ha lavorato a Londra ma ha avuto esperienze di tipo internazionale anche in Spagna, ha lavorato anche in Italia, sicuramente ci potrà garantire almeno, su questo facciamo molto affidamento.